Allora, ho messo il Tommy Gun, per un po' lo voglio provare, quindi vediamo com'è E basta, iniziamo Ci mette due minuti a carica livelli, però, vabbè Americano, you fight on street like a good boy, I shoot from here My old bones are no good for the close combat What is it about Grammys that makes them so hard to disobey? Ok Ah, un'altra cosa, mi è stato consigliato di mettere l'opzione vivida Oh, effettivamente, effettivamente, molto più colorata, però magari non così tanto Beh, bello Ok A big battle, immagino Ma la nonna sul serio ha sparato al balcone? La nonna col minigun Ma sì, posso andare qua Oh, dai, non mi dica di nuovo ultra buggato come vi è lo scorso Ok, no, dai C'è della roba Questo è tecnicamente il punto in cui potevo accedere a questa parte di livello Senza però che avrei dovuto farlo, insomma, per andare out of bounds Infatti hanno aggiunto anche delle cose che non c'erano in quel livello Ok Ah, ah, ah Oh, sì Ah, chi sono, Kears? Ma gli spara? Sì. L'Iliot fascisti. Giusto, giusto. No, tranquilla, non dispare, chi è vero. Eh, sì. Non sarà molto uguale questo gioco nei centri di gas a pound. Ma che sti cazzi, eh? E? Come here! I will teach you madness! Are you hungry? Run now and open a can of lupus! Where do you come at, Nonna? Your best not miss! Psst, oh jeez. Au! We have what? Good work, Americano! I'm proud of you! I must go get my rocket launcher now! Here, you take Nonna's minigun! Oh! Careful, it is heavy! Thanks, I've actually handled one of these before. By the way, how do I get to the Vatican? It's easy. Go around the castello and enter left through the park. Go straight ahead, and there you can find Papa Mobile. I'm, I'm not sure that's my kind of ride. Silly boy, he's the new Papa Mobile. Il Papa have it made all special. You see, he's good. Now go. Oh! Oh there you are! I'm not sure! Oh, there you are! Oh, there you are! Viene, te li hai premuto tutti e due, perché non voglio la precisione, voglio che sparino veramente a cono, in modo che prendano più droni possibile. Andiamo a questa nemica. Eh! Oh yeah! Ok, fammi tornare indietro giù al tevere, perché visto che sono morto, mi sa che devo andare a riprendere i segreti che ho preso sotto. E tra l'altro non profitto anche di dire una cosa, che quando corro o cammino normale, l'animazione ci sta. Appena metto il dual wielding, inizia ad essere un po', come dire, saltellosa. Cioè, guarda qua. Dopo fastidio, però vabbè. Sbaglio, non me l'ha dato il medikit. Cioè, mi sa che uno già ce l'avevo. Non me l'ha dato un altro. What the fuck? What? Abbassato un po' la saturazione e ho visto lì che ci sta qualcosa che brilla. Quindi c'è un oggetto segreto lì. Ok, ok. Ok. Voglio provare ad andare giù, vedete che succede. Secondo me softlock il gioco. A meno che ti permette poi di tornare a riattraversi con il Tevere, mi sa che non puoi più uscire da qua. E invece, attenzione, ci sono delle scale, molto più veloci rispetto a Sam 3, grazie. Gadget segreto. Oh. Vediamo l'altra parte allora. Ah, e stavolta me l'ha dato il medikit. Ok, di qua invece penso non ci sia nulla. E c'erano delle scale alla fine, vediamo. Oh yeah. Allora. Credo che comunque non mi interessa più di tanto sta roba. Ci mi mostro a posto. Magari è giusto il cavalcare che non me lo sto filando, però... Faccio la resistenza to small. Splash damage. Oh, che belle munizioni, il minican. Ah, sì, ancora. Ma è un po' troppo, no, eh. Minchia, sono ovunque. Te lo voglio far usare, insomma. E te l'ho andato pure da skill point, magari nel caso volessi... Guarda quanto ce ne stanno. Nel caso volessi usare il doppio... Il doppio minican. Comunque non penso sia necessario. Qua. Altro minican, altro minican. Ok, minican ovunque. Cioè, è solo minican. Quindi, fammi salvare perché... Vuol dire che sta presto succedere qualcosa di brutto. Lì continuo a vedere l'oggetto di prima. Eccoci. Belce. Ehi. C'è pure dietro. C'è tutto intorno. Ehi, là. Ehi, là, petta. Ehi, da dove esco? Ho un solido 40 fps in questo momento. Ok. Oh, oh. Non inizia. Ehi. Oh, jesus. Oh, jesus. Oh, se devi in faccia. Come ha sciotti. Moon. Non lo diri, è che appa viene. bella veramente sta zona ok vado a raccogliere tutti gli altri pick up che sono parecchi e ci risentiamo dopo ho deciso di non farmi un giro completo che tanto ho tutto quello che mi serve è così semplice tu 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 no 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 Adesso sarà a metà gioco ancora Eccola la pappa mobile Americano I'm proud of you And on the eighth day the Lord gave unto Sam a mech And it was good Yep Hail Mary Hail Maria ha detto C'è la croce sul cruscotto giustamente Vabbè sono Let God sort them out Allora left shift dash Space file granato Bella bella Notare che in questo momento non sto toccando i tasti WAD Ma solo girandomi si muovono le gambe del mech Madonna La visuale è illimitata Allora tasto sinistro mitra Tasto destro Missili C'è una ricarica? No Immagino che quando finisca notte E la rimasta Questi mitra vanno le esplosioni Ottimo Buono il dash Ehi Uh mezza tacca Già mando Beh si controlla bene Devo dire Non è Non è per niente fastidioso No Ehi Non è per niente fastidioso Ehi Ricarica Aia Granate Sì Non mi hanno elevato un botto di vita Già Oh Questo è bella Ci sono tecnologi Fa come ero risulto Eh mi viene da premere il testo spazio Sta morire In serio Pensavo che era molto più autoscroller Vediamo se riesco A vedere la notte Gli fanno qualcosa Sì qualcuno Ma chiappa Dai Eh le prego sempre Che sbaglio Comunque Ah ce l'ho su schermo L'indicazione Di quando le cose sono pronte Ok Dash pronto Perfetto 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 E ora mi spargo sul tuo missile Così mi ricarico E non so Ciao Perché sto morando Perfetto Ah sì C'è una sola Do notte che non stai sparando Ok Ecco C'è il bossolo Anti-boss E' scherzo C'è il bossolo Che sbaglio L'ho detto che la Godron Era il nemico vero Delle sensazioni in Italia L'Atac Tira gli auto Brustoso tizio Beh la fa che lui l'ha battuta Sbaglio sono Sono riciclati dei ragni Tiri giusto in due Quasi è quasi impunorabile Qu'è questo? Il mondo più lungo di picamoo? eh, bip bip, lo so questo che fa è il palo dell'alui giusto Mi sembra giusto Va bene, santo autista ci mi ha sbloccato Boh, sul livello è andato più veloce del solito Andiamo al prossimo Buon salve, buon salve Grazie a tutti